Una piccola donna, apostola dell'amore e della compassione di Dio. Madre Teresa di Calcutta sarà la Santa del Giubileo della Misericordia. Papa Francesco ha infatti convalidato ieri pomeriggio il riconoscimento del miracolo attribuito all'intercessione della fondatrice delle missionarie e dei missionari della carità. Proprio martedì scorso la Congregazione delle Cause dei Santi aveva espresso il suo giudizio positivo all'unanimità sul caso di un ingegnere brasiliano, oggi 43enne, che nel 2008 era stato guarito all'istante in modo scientificamente inspiegabile quando era ormai in coma a causa di una patologia mortale al cervello e stava per subire un delicato intervento chirurgico. Rinviata l'operazione di mezz'ora per problemi tecnici, appena ritornò in sala operatoria il chirurgo trovò il paziente perfettamente cosciente che gli chiese cosa ci facesse lì sul tavolo operatorio. La moglie e i suoi familiari riferirono poi di aver pregato intensamente Madre Teresa per la guarigione del proprio caro. Icona vivente del buon samaritano, Madre Teresa sarà proclamata santa probabilmente il 4 settembre prossimo, ma la data sarà ufficializzata nel prossimo concistoro. Nata a Scopia, attuale Macedonia, nel 1910, morta a Calcutta nel 1997, il 1997, Madre Teresa ha dedicato la sua vita a prendersi cura dei più poveri tra i poveri con un'intensa esperienza interiore, la notte oscura della sua anima in cui partecipava misticamente alla sete di Cristo, al suo desiderio di amore per tutta l'umanità. Premio Nobel per la pace nel 1979, la piccola matita nelle mani di Dio, come le stesse si definì, si spense il 5 settembre 1997, ricevendo l'onore dei funerali di Stato da parte del governo indiano. La sua tomba divenne ben presto luogo di pellegrinaggi e di preghiera per gente di ogni fede. Il processo di beatificazione, per volere di Giovanni Paolo II, fu aperto a soli due anni dalla morte, in deroga ai cinque anni ordinari. E il 19 ottobre del 2003, la piccola donna, innamorata di Dio, venne elevata alla gloria degli altari. Aveva servito Cristo stesso, riconoscendolo in chi affamato, assetato, straniero, nudo, malato, prigioniero.